Siamo in via Gasparotto, quello che vedete alle mie spalle è il complesso della nuova S Lunga, qui siamo all'incrocio con Via L'Europa, la rivoluzione viabilistica è stata completata. Sono stati inizialmente tolti i semafori, create le rotonde, tutte le corsie di incanalamento. La novità è che, come avevamo anticipato circa un mese fa, il giorno 24 di marzo, quindi tra una settimana, debutterà la nuova S Lunga, il supermercato quindi aprirà. Cosa avverrà nel frattempo intorno per quanto riguarda la viabilità? Con l'apertura della nuova S Lunga dovrebbe essere anche agibile e quindi inaugurata la rampa di collegamento con la bretella della Tolaghi, sostanzialmente un peduncolo che scende dalla bretella e mette qua, in questa zona dove sorge l'Esse Lunga. Quella nuova strada che vedete lì accanto all'Esse Lunga è stata asfaltata in questi giorni, teoricamente pronta. Cosa manca? Quale dubbio resta? L'ultimo collaudo. Un primo collaudo è avvenuto a inizio settimana, un altro ne verrà fatto venerdì. Se tutto, come sembra, sarà in ordine, verrà quindi aperta anche la nuova strada. C'è il discorso poi della bretella dell'Auto Lunga in direzione Varese che resta chiusa appunto a causa dei lavori che sono stati eseguiti per la realizzazione della nuova rampa. Anche lì vale il discorso fatto per questo peduncolo. Ci sarà una verifica venerdì e si valuterà appunto se poterla riaprire già da settimana prossima. Comunque come potete vedere nell'area tutto è posto, le opere sono state completate, i lavori erano iniziati la scorsa estate, c'era la previsione di poterli completare entro l'inizio della primavera e così sarà.